Siamo lieti di presentarti U-Connect Services, una gamma di servizi creati per supportarti nella gestione quotidiana del tuo veicolo ovunque ti trovi. MyAlert ti avvisa se viene rilevato un sospetto tentativo di furto come un traino non autorizzato e ti permette di avere supporto e assistenza in caso di furto. Se viene rilevato un sospetto tentativo di furto come un traino non autorizzato o altre tipologie di violazioni, riceverai un avviso immediato sull'app mobile Jeep e sul sito web. Il servizio assistenza a veicolo rubato fornisce assistenza in caso di furto. È possibile chiamare la centrale operativa per richiedere assistenza premendo semplicemente il tasto Chiama sull'app mobile Jeep. Una volta che avrai confermato il furto con la denuncia alle autorità verranno attivate le funzioni di sicurezza inclusi il tracciamento del veicolo e il blocco dell'accensione in accordo con le forze dell'ordine. Per evitare di interferire con qualsiasi indagine delle autorità tutti i servizi saranno disabilitati sull'app mobile e sul portale web fino alla risoluzione del problema. Accedi alla tua area personale sul sito Jeep MyU Connect e scegli la durata del piano MyAlert più adatto alle tue esigenze. Grazie a tutti.